Poi tanto loro non fida nulla ma siccome questa regia una volta c'è dato problemi Stai proprio facendo la regia veda Perché non c'è lo zoom come in realtà Mmm ma ci vuole entrare dentro il foglio gloria perché facevo vedere i dettagli però tra un po' c'è dentro e poi più che altro mi pari la luce grazie 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 non avrei saputo far di meglio no 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 neanche io addirittura neanche io ciao cut cut